Per la prima volta gli elettori italiani voteranno anche di sabato, ma solo di pomeriggio. Sabato 12 giugno i seggi verranno aperti alle 15 e si potrà votare sino alle 22. Si voterà anche domenica 13 giugno, dalle 7 del mattino sino alle 22. Sulla tessera è indicato il numero e l'indirizzo del seggio elettorale presso il quale votare. Quando ci presentiamo al seggio dobbiamo mostrare, oltre alla tessera elettorale, anche un documento di identità valido.